Residi di plastica nei panini somministrati agli alunni delle scuole di Battipaglia. L'allarme è scattato lunedì scorso quando un alunno di una scuola battipagliese ha rinvenuto residui di materiale plastico nella mollica di un panino. Il dirigente dell'Istituto Comprensivo non è rimasto a guardare informando con solerzia all'ufficio delle politiche scolastiche del comune di Battipaglia e trasmettendo una circolare ai docenti e al personale esortandoli a tenere alta l'attenzione. La madre del bambino ha fatto avere il panino ai dipendenti di Palazzo di Città che hanno alertato Vincenzo Tiscia, il tecnologo alimentare. Nel frattempo l'amministrazione comunale di Battipaglia ha disposto la sospensione della somministrazione di rosette affini. I panini contenenti residui di plastica sono stati consegnati ad un laboratorio d'analisi e sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti, che dovranno fare chiarezza su quanto accaduto.